Lo sollevo. Sono accorazzati! Benedici di curarmi? Rialzati. Si avvicinano! Ordi! Non resisterò a lungo. Gli scudi sono andati. Colpiamo l'ora. Io vado. Mi hanno colpito. E tal posta legge. Grenato! A terra! Sono in piedi e pronto. Ordi! Fornisco curi. Fornisco curi. Garciurata. Grazie. Tu sei più? Annunce? Renata! Grazie! Aria sicura. Appetiti in posizione di giro. E i vannardi sono corazzotti. Si sta appoggiando. Guri, colchiamoli! Sto richiamando le forti. Aspetiti, bomba! Grazie. E lo hai aiutato dagli altri! I vannardi, ti sta curando! E i vannardi sono corazzotti! E l'azione! Ogni quattro è così! Stiamo salendo! Truni, alleato attivo! Sto richiamando l'imposto! Merdizione! Ma non è avanzato! Non sono avanzato! Non lo può avanzarli! Fornisco cure. Non lo può avanzarli! Sto avanzando! In aria! In aria! sono arrivati a una terra sono ritrovati sono ritrovati vado aiii di nostro redizione scuoli e avevo troppo di un bisogno attenzione mi sembra un mare di loro Mi stanno creando degli altri! Mi riposiziono! Schiero un blob! Rialzati! Guarda come vola! Sto richiamando i forzi! Il drone mi sta fiumendo! Che le dici di fuori armi, Rippo? Ah! Schiero un drone di supporto! Cudi sfondati! Colpiamolo! Orpavamo! Il drone! Li sta curando! Richiamando i forzi! Teneteli sotto pressione! Scusate! Stanno creando degli altri! Si lo facciano! Ordini! Scusate! Scusate! E' con gli occhi! E' con gli occhi! E' con l'acqua! Dispondati! Colpiamolo! Vieni a me! Posso mostrarti la verità della tua esistenza! Dottore, c'è un modo per far tacere quella voce? Voce? Noi non sentiamo nulla. Che sia Mosaico che cerca di comunicare in qualche modo con te. Potrebbe riuscirci. E perché con me? Interessante. Ma questa domanda può aspettare. Questa è che è un modo per accesso. Questa è un modo per l'amore. Questa è un modo per l'amore. Grazie a tutti. ORIGIN Il prigioniero. Che cosa significa? Che cosa vuoi da me? Tu non sei quello che ci serve. Vogliamo il demone che ti controlla. Basta dire cazzate. Il demone si nasconde su un vostro mondo da secoli in attesa, pianificando il giorno in cui si sarebbe rivelato. Il pacco a Groom. Che c'era dentro? Al nostro arrivo si è risvegliato e ha scelto il prigioniero. Tu. Rivelati, demoni. Gantin, no! Rivelati, diventa il nostro. No! Che cosa sei? Una volta ero come te, il prigioniero di un demone. Ho scacciato la bestia, forzandola a servire me e il mio popolo, mentre lo conducevo nel nuovo mondo. No, amico. L'hai condotto nel mio mondo. Carter, com'è la situazione? Demone. Non capisco. Carter, il bracciale di Ben ha funzionato? Hai catturato Origin? Origin non è più importante. Non è importante? Di che stai parlando, Carter? Lasci che bruci, non è ciò che pensiamo. Qualcos'altro alimenta Mosaico, prenderò quello. Gartner, corri! Il mio braccio! Sembra che stia per straparci! Il prigioniero ha catturato il prigioniero. Banz, ora! Ricevuto, vostra posizione individuata. Sono i principi tra? Banz, ora! Vosie, non facili! Non facili, debisserie! Ma, bella! Ma, bella! Come, dip sape il momento! Raigrandsetti! Colegio! Origin è morto. Dire che questa vittoria è giunta a fronte di un enorme sacrificio sarebbe un eufemismo. È uno sforzo troppo grande per lui. Tieni duro, Will. Ci siamo quasi. Ma dire che la guerra è vinta è una bugia. I portali dimensionali sono chiusi. Tutti. Il nemico è confuso, destabilizzato. Ma è ancora tra di noi. Sapete cosa fare. Usate il vantaggio. Sconfiggete le forze nemiche. Dovete riscattare la terra. È il nostro momento, signore e signori. Non sprechiamolo. Lieto di rivederti in piedi, Carter. Cominciavamo a preoccuparci. Non sono ancora finito, dottore. Bene, il direttore Folk continua a chiedere tue notizie. Gli servi sul campo. La guerra non è finita.